Rieccoci in sala, terzo appuntamento, terzo incontro, terzo aggiornamento dal Poker Room del Casino Perla dove siamo nel corso dell'ottavo livello con Blinds 500, 1000 e Ante 100 quindi chiuse le iscrizioni per questo D1A sono poco più di 100 le entries abbiamo in questo momento in gioco 82 players distribuiti su 9 tavoli e il chip count che potete vedere anche sul nostro sito costantemente aggiornato www.sharkevens.it vede in questo momento in prima posizione Matteo Pepi con 300.000 chips al secondo posto Matteo Fortunato con 250.000 e terzo Mimo Cuzzuccoli abituato a queste alte posizioni con 246.000 tra l'altro Matteo Pepi è qui seduto al posto 7 del tavolo 23 e approfitteremo magari, giriamo allora com'è? per ora bene direi bene no? eh sì, abbastanza com'è questo tavolo? no, è arrivato ora, ho giocato domani la prima ho raddoppiato subito quindi dovrei dire molto bene cosa qua ti dice mi faccio spostare di nuovo? no, 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 va bene qua qui volentieri, sto portato bene quindi perché mi devo far spostare? bene, grazie in bocca al lupo vieni Sergio, andiamo di qua e questo invece è un altro bel tavolino impegnativo ecco, visto che non state giocando voi due ragazzacci allora, Mimmo che impressione del tavolo quando gioco a un camerotto mi diverto sempre perché lui è convinto di essere uno dei migliori a mio parere non è così ha tanto culo e lui ha più culo che animo dice bene no, non fate rime col cognome a proposito di culo e come verrebbe in rima? culotto? bene, mi piace la battuta a proposito di non fare vabbè, ma Paolo non si offende è un amico, dai è un tavolo simpatico buono gente splendida come sempre meglio di così si muore il tuo amico qua questo signore oggi ha beccato tante mani tante mani contro con un po' di sfiga quello vuol dire avere giornata no è così Diego? è esattamente descritto alla grande troppe carte belle scoppiate con non dire che hai i doppie coppe e sei rientrato mi pare eh già la prima volta nella mia vita che provo a fare un rientri o prendo e mani e vado a casa oppure adesso ci riprovo di solito i rientri portano male ormai credito a te perché sennò esatto aspetta aspetta abbiamo abbiamo attenzione abbiamo abbiamo un esperto qui di rientri rientri tavolo finale normale io gioco solo contro lui ti giuro si parla di culi degli altri devi vedere che culagna toh ma guarda arrivo e peschi arrivo e pesco ma già il flop ce l'avevo è che il mio era il flop o il terno perché era la quarta carta no ho pescato al flop sono girato dall'altra parte giustamente come sta andando Enzo? ma mica tanto bene comunque comunque dai non c'è male adesso adesso cambio tavolo speriamo che si giri visto che già prima hai fatto spostare tutti perché eravate tutti schiacciati si ho fatto spostare tutti perché eravamo sei giocatori di metà tavolo in qua e quattro giocatori dall'altra parte ho detto qua devi farmelo spostare no il problema è che Johnny gioca comodo si allarga si allarga è vero confessa 15 6 15 6 15 solo 15 solo ecco 15 5 bene bocca al lupo approfittiamo quindi di questo tavolo rotto per darvi la linea più tardi per un nuovo aggiornamento seguiteci sempre sul nostro sul nostro sito sharkevents.it dove avete il chip count aggiornato per quanto riguarda noi e la sala ci vediamo dopo ciao ciao